Fatevi l'epidurale! Fatevi l'epidurale! È stato un parto lungo e doloroso! Appena ho visto quello l'olio ho pensato subito a una bella carbonara e mettiamo a croccantare il nostro guanciale. Vi diamo quattro mazzaroccate piano piano qui. Eccolo! Intanto provo a separare la chiara dal rosso. E ora mettiamo qua il nostro rosso. Si dice che siano come 25 uova di gallina. Ci mettemo una valanga di pecorino, un bel po' di pepe nero. Vado pazzo per l'odore del napalm al mattino. Daie, daie, daie! Mettiamo a cocio le mezze maniche. Piamo un po' di acqua di cottura della pasta. Non si affreddano tantino. Le aggiungiamo alla nostra crema di ovo di struzzo. Buttiamo giù la pasta nel guancialetto. Ma lo sapete che io so quello che fa le cose strane? Che la fanno normale sta carbonara? Ci mettemo gli sfilacci di cavallo. Giù gli sfilacci. Poi giù tutto l'ovo di struzzo. Considerando che sono le 4 e mezza come merenda va benissimo. Cerchiamo di non struzzasse. E poi lo maniamo!